E' questa stagione quanto è buona? Si, tutti i giorni la mangiamo qua Sta bene, eh? Io 10 minuti e torno in servizio Vabbè, te le prendi poi le ferie con caldo Ma scus, perché sei venuto in ferie in questo periodo? Mia moglie è incinta Mh, burla mia E' approfittata E comunque sono contento Anche perché, credimi Sono certo che avrò una femminuccia Sicuro? Poi bisogna avere questa certezza da dove viene Cioè, uno ognuno è sicuro dalle cose sulle Per quale motivo? E' matematico, è un fatto di posizione Quando io e mia moglie abbiamo concepito, diciamo Io mi trovavo sopra E' matematico che hai la femminuccia Come sto fatto? Si, se sei sopra Hai la femminuccia È proprio un fatto di posizione Eh, c'ha ragione C'ha ragione Confermo Scus, io ho avuto un maschietto E io quando all'epoca con mia moglie, capito Io stavo sotto Lui avrà una femminuccia perché stava sopra Capito? E matematico E vabbè, scus, a questo punto io avrò una pecora E vabbè, scus, a questo punto io avrò una pecora